C'è un progetto industriale che praticamente non è gratificante ai fini della ricollocazione o comunque del riassorbimento di queste persone. Da due anni sono in cassa integrazione per cessata attività e senza un piano industriale in grado di rilanciare lo stabilimento di Via De Roberto. La storia e le preoccupazioni di circa 800 dipendenti della Marelli Exergom, azienda del gruppo Fiat, sono state al centro della commissione lavoro presieduta da Antonio Crocetta e organizzata con l'assessore Enrico Panini. L'iniziativa ha lo scopo di rimarcare la dimensione nazionale della vertenza per garantire un futuro occupazionale ai lavoratori dell'indotto. Sono lavoratori che non vogliono un'assistenza, vogliono lavorare. Essenzialmente recriminano una cosa importante, il diritto a decidere anche per il tramite i loro parlamentari dell'estino di un'azienda che hanno contribuito a fare. La direzione non dà risposte circa il rilancio produttivo di questa situazione. È una situazione che caratterizza una fabbrica importante con un numero di operai coinvolti molto consistenti. Ahimè nella nostra regione, nella nostra città, è una situazione che attraversa molte altre fabbriche, molte altre realtà produttive. Da questo punto di vista non solo usciremo con degli impegni, ma intendiamo coinvolgere anche le commissioni parlamentari perché su Magneti Marelli e su altre situazioni noi chiediamo si debba aprire un occhio di attenzione di carattere nazionale.